Marvin Hagler, prima di essere campione, era un Marvin Hagler, era come un Carlos Manzón, metteva tutti i KO. Dicevo io, guarda, io sono campione, se a me mi avevano detto se non volevo fare questo incontro perché avevo un poco di Freber, avevo questo raffreddore, se non volevo fare lo rimandiamo, ho detto no, l'ho fatto, avevo un po' di Freber, l'ho fatto e se tu ti ricordi proprio l'incontro, i primi 5-6 riprese li ho persi perché sai quando c'è un raffreddore i muscoli te li senti un po' duri. Poi quando cominciai a sudare, mi cominciai a sentire molto più bene. Ho fatto 15 riprese, io credo che ho stato l'unico da fuori di Leonard a fare 15 riprese con Hagler, anzi neanche Leonardo ha fatto qua, Leonardo ha fatto 12 riprese con Hagler, Hagler ne ha fatto 15 riprese con nessuno, metteva tutti i KO. Per dire, l'ultimo incontro con Leonardo ne ha fatto soltanto 12 riprese perché dopo l'hanno abbassato da 15 a 12, mi hanno fatto fare con Minter, dopo che ho vinto, cioè erano tutti e due numero 1 e numero 2, vinse con Hagler il novembre del 79 e il febbraio, il principio del marzo dell'80 mi hanno fatto fare con Minter, cioè non mi hanno dato abbastanza tempo di recuperare perché l'incontro con Hagler è stato un incontro duro. Il primo incontro avevo, non c'era sangue perfetto, ma avevo 75 punti qua e qua, ma non c'era sangue perché mi mettevano questa medicina, mi affermavano il sangue. Il secondo incontro, prima dell'incontro hanno detto no, stavolta non puoi usare questa medicina e la prima ripresa, no la seconda ripresa abbiamo battuto testa, ma avevo già un taglio qua e l'arbitro aveva detto che era un incidente che ci abbiamo, invece, poi l'ha fatto di nuovo, alla terza ripresa, Hagler che veniva con la testa perché Hagler quando faceva come si teneva a distanza, invece quel incontro veniva con la testa giù, veniva. Ecco perché mi ha tagliato, l'hanno fermato l'incontro, il primo incontro è stato a Las Vegas, non potevano dire niente, il secondo incontro invece è stato a Boston, il mio manager e il mio allenatore hanno deciso di stappare l'incontro perché hanno visto che non era possibile di vincere l'incontro là. Grazie. 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 Grazie.